E' entrata acqua, è entrata acqua, tutto bagnato Buon day, benvenuti in questo nuovo video vlog Oggi siamo qui con una challenge, iniziate già a mettere un bel mi piace Cosa faremo oggi? In compagnia di mia sorella che è dietro la telecamera che sta riprendendo Inseriremo degli oggetti dentro questa bacinella piena d'acqua Scopriremo se l'oggetto inserito galleggerà o affonderà Metteremo sia oggetti preziosi che oggetti non preziosi Questo video in collaborazione con 21 Buttons Che per chi non la conoscesse è la fashion app più famosa della moda Dove potete trovare all'interno dell'applicazione tutti gli outfit dei vostri influencer E tanti artisti preferiti, quindi prendere spunto o semplicemente outfit dell'ultima moda Con questa applicazione è possibile acquistare i capi che vi piacciono Che indossa magari il vostro influencer preferito Semplicemente cliccando su un button che c'è sul vestito Perché ogni abito che vedete nelle foto sull'applicazione verrà taggato da un buttons Che voi potete cliccare e vi riporterà sul sito web del vestito della marca E da lì è molto semplice potete acquistare il vestito Per scaricare l'applicazione basta che andate nella descrizione del video Nell'info box trovate il link che vi riporterà direttamente anche sul mio profilo E siccome sono arrivato a 370.000 follower su 21 Buttons Visto che comunque ne avevo già parlato negli scorsi video Voglio festeggiare e regalarvi 100€ di buono da spendere nel negozio di Bershka Per partecipare al contest è molto semplice Dovete iscrivervi al mio canale YouTube Lasciare un commento qua sotto il video con il vostro nome e il vostro nickname di 21 Buttons Ovviamente seguirmi su 21 Buttons e cliccare sul banner che vi uscirà fuori Con il codice sconto di 100€ di Bershka Il contest terminerà tra una settimana esalta E per scoprire se sei il vincitore basta che tornerai su questo video E troverai un commento fissato in alto con il nome del vincitore Quindi io vi auguro buona fortuna e ora iniziamo la challenge Eccoci qua, questa è la nostra bacinella d'acqua E ora inseriremo vari oggetti Ho visto che questo video in collaborazione con 21 Buttons Io direi di iniziare con un capo Ovvero questi boxer bellissimi nella Juventus Secondo te galleggiano o affondano? Secondo me all'inizio galleggiano poi affondano Eh sì perché si inzuppano Direi di provare Galleggiano e non si inzuppano Attenzione pian piano sta affondando Stanno affondando però molto lentamente Sono fornito di un'altra bacinella a modo tale da tirarvi la roba E metterla dentro qua Mi raccomando seguiteci su Instagram Vi lascio i nomi qua sotto Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto E Martina doppio trattino basso barbuto Dopo il trattino basso La finisci La finisci Direi che puoi scegliere un oggetto da inserire Però c'è una pallina da golf che ho trovato al lago Al lago Ok adesso che sappiamo che l'ha trovata al lago possiamo dormire Secondo me affondo Sì ovvio Affondata incredibile Oh mio dio Ok tocca a me E io scelgo un pacchetto di fazzoletti Che secondo me galleggia Ragazzi galleggia Galleggia E non si inzuppano Perché sono protetti dalla plastica È vero Sì Direi Ciali Ok da solo Secondo me affondano Mi raccomando guardate il video fino alla fine Perché a fine video ragazzi Proveremo a vedere se il mio iPhone Galleggia o affonda Di ora tocca a me prendo un codino per i capelli Un elastico per i capelli Ok questo galleggia Questo galleggia secondo te Secondo me inizialmente galleggia Poi Galleggia Jet spinner di metallo È stata una cosa che è affondata più velocemente possibile Dopo proviamo a mettere Martina nella vasca da bagno Vediamo se galleggio Tocca a me Tocca a me Non so che ci hai preso gusto Allora io voglio prendere qua Chi di mia sorella? No è uno specchio Ah uno specchio Ah tu l'ho regalato io Ma ne stavo ricordato neanche Credibile stava per galleggiare Incredibile Incredibile Stava per galleggiare È arrivato il momento Di provare a vedere se il mio iphone galleggia O affonda Unisco di sacchetto Che secondo me non servirà a nulla Secondo me entra Iphone All'interno Ti è che ansia Ho fatto un altro paura Perché secondo me affonda Però siccome c'è la plastica Che magari c'è un po' d'aria dentro Potrebbe galleggiare Per me la protezione non è molto adatta Cioè secondo me entra Secondo te galleggia affonda Secondo te entra Appo non entra All'iphone come vedete È il mio è funzionante Non è uno scherzo Ci siamo Sono a fuoco L'iphone affonda Oddio E adesso scopriremo anche se è entrata dell'acqua Prendi un asciugamano Prendi un asciugamano Marti velocissimo Mi sa che è entrata acqua Mi sa che è entrata acqua Marti È entrata acqua È entrata acqua Però per fortuna pochissima Guarda è tutto bagnato La tovaglia per asciugare l'iphone La tovaglia È in ansia È entrata ancora che è bagnato Cioè non voglio che fa la fine del giorno Però va Però va Perfetto ragazzi Spero che questo video Un po' diverso dal solito Questa challenge vi sia piaciuta Mi raccomando lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Seguite tutti i passi Per partecipare al contest Di 21 Buttons Per vincere 100 euro Di buono Da spendere da Bershka Mi raccomando trovate il link in descrizione Se avete visto il video fin qua Siete veri fan Commentate con hashtag Finno alla fine Su 21 Buttons Carico anche Outfit inediti Ovvero che non carico magari su Instagram Ad esempio L'altro giorno Ho fatto un sondaggio Devo acquistare questo cappellino E questa felpa E subito dopo Ho caricato l'outfit Su 21 Buttons Noi ci vediamo Un prossimo video Tra due giorni Perché ogni due giorni Esce un nuovo video I'll help you be popular I'll help you be popular